Dopo i disagi e i disservizi verificatisi gli ultimi giorni del 2014, il comune di Campobasso corre ripari e in vista di future nevicate fa il punto della situazione in città. Intanto una nuova perturbazione ha investito la regione che si è svegliata nuovamente sotto la neve. Ritrovato sul lungomare nord di Termoli un bidone sospetto di asfaltene immediatamente contattata la Capitaneria di Porto, il fusto sarà analizzato dall'Arpa Molise che provvederà ad accertarne il contenuto. Tra i nomi dei nuovi prelati che otterranno la porpora durante il prossimo concistoro di febbraio non compare quello di Monsignor Bregantini, Papa Francesco ancora una volta sorpreso i fedeli che già vedevano il presule tra i nuovi 15 cardinali. I Granata escono sconfitti per 3-1 nell'ultima partita del girone di andata, una doppietta dell'ex esposito e un gol di Broso condannano gli altomolisani alla quarta sconfitta consecutiva e alla coda della classifica. Ben trovati con l'informazione di Molise TV, una nuova perturbazione proveniente dai Balcani ha investito la regione. Nelle prime ore del mattino la neve è caduta in alto Molise, anche a Campobasso, dove non sono ancora del tutto risolti i disagi dall'ultima nevicata. Possibili fenomeni a carattere nevoso anche per la giornata di domani, ma l'ondata di freddo, assicurano gli esperti, durerà poco. Vediamo. La tregua concessa dal tempo nella giornata di ieri è finita con l'arrivo di una nuova perturbazione che ha interessato la regione già a partire dalla mattinata di oggi. Il maltempo porterà nei prossimi giorni a un nuovo calo delle temperature che però, a detta degli esperti, non dovrebbero registrare valori rigidi simili a quelli degli ultimi due giorni del 2014. Nelle prime ore del mattino la neve è caduta in alto Molise e anche a Campobasso, dove non sono ancora del tutto risolti i disagi dell'ultima nevicata, con bidoni della spazzatura pieni di immondizia, marciapiedi impraticabili, così come i posti auto per le tante piccole montagne di neve create dai mezzi spazzaneve. Questa nuova ondata di maltempo accompagnata da schiarite frequenti si sommerà pertanto ai problemi della nevicata di fine anno, che ha costretto tantissimi molisani a trascorrere la notte di San Silvestro a casa. La nuova ondata fredda, proveniente dai Balcani, farà sentire i suoi effetti anche nella giornata di domani, con la neve che tornerà a cadere nelle zone interne della regione da Campobasso a Isernia, in particolare in Alto Molise, sui monti del Matese e sull'Alta Valle del Volturno. La perturbazione però questa volta durerà poco, hanno assicurato gli esperti. Per entità e durata non sarà certo paragonabile all'eccezionale ondata di freddo che ha investito la penisola tra Natale e Capodanno. Già dalla serata dell'Epifania le condizioni meteo dovrebbero infatti migliorare. Resta il pericolo gelo e ghiaccio e l'appello di istituzioni e prefettura è quello di guidare con estrema prudenza e con pneumatici invernali. E proprio della situazione neve si è discusso a Campobasso in un tavolo tecnico convocato dal sindaco Antonio Battista. Oltre al primo cittadino presenti all'incontro l'assessore Pietro Maio, il consigliere Lello Bucci, il responsabile della SEAC e i dirigenti comunali De Marco, Giarrusso e Sardella. Il sindaco ha invitato tutti i cittadini a prestare attenzione nel percorrere le vie della città, a limitare al necessario gli spostamenti con le auto private, a servirsi dei mezzi pubblici. Ancora di essere scrupolosi e collaborativi nella sosta o nel parcheggio delle auto, di rispettare il codice della strada evitando rigorosamente la sosta disordinata in doppia fila o in condizioni tali da rallentare lo scorrimento del traffico veicolare o la rimozione della neve da parte dei mezzi operanti. Nei prossimi giorni si procederà con l'adeguamento dei regolamenti comunali riguardanti la materia per la dotazione a bordo dei mezzi SEA di dispositivi satellitari o radio per una più puntuale gestione dei mezzi sul territorio. E tra i nomi dei nuovi prelati che otterranno la porpora durante il prossimo concistoro di febbraio non compare quello di Monsignor Bregantini. Papa Francesco ancora una volta ha sorpreso i fedeli che già vedevano il presule dell'arcidiocesi di Campo Basso Boiano tra i nuovi 15 cardinali. Vediamo. Il prossimo 14 febbraio avrò la gioia di tenere un concistoro durante il quale nominerò 15 nuovi cardinali che provenienti da 14 nazioni di ogni continente manifestano l'incendibile legame fra la Chiesa di Roma e le Chiese particolari presenti nel mondo. Così Papa Francesco ha annunciato la nomina di 15 nuovi cardinali che riceveranno la porpora il prossimo 14 febbraio. I nuovi senatori della Chiesa saranno in realtà 20, 5 di loro non elettori poiché ultraottantenni come l'italiano Luigi De Magistris di 88 anni, arcivescovo di Nova. Oltre a lui a provenire dal bel paese solo l'arcivescovo di Ancona, Edoardo Menichelli e quello di Agrigento, Francesco Montenegro. Nessuna nomina per Monsignor Giancarlo Maria Bregantini che in molti già vedevano nella lista dei nuovi cardinali di Papa Bergoglio. Prima l'affidamento della stesura delle meditazioni della Via Crucis in Vaticano, poi la visita del Pontefice in Molise ad alimentare le aspettative dei fedeli che ormai davano per certa la nomina di Brigantini nel prossimo concistoro. Ma Papa Francesco anche questa volta ha sorpreso i fedeli e ha operato una scelta che rompe i tradizionalismi, favorendo i vescovi del sud del mondo. E così l'arcivescovo Brigantini resta nel capologo molisano, nonostante lo stesso presule sia stato sotto i riflettori per ben due occasioni negli ultimi mesi. Ad ottobre infatti il suo nome è circolato come possibile successore di Paolo Romeo alla diocesi di Palermo. Poi a dicembre rumors vicini agli ambienti religiosi avevano dato per acquisita la porpora entro febbraio. Niente di tutto ciò, ma lo stesso Brigantini aveva smentito con una nota piuttosto dura l'indiscrezione trapelata dai sacri palazzi dietro San Pietro. La notizia è infondata, ma c'è qualcuno che mi vuole proprio cacciare. Aveva tuonato l'arcivescovo infastidito per la notizia diffusa immediatamente dagli organi di informazione locali. Sospendere il progetto di assistenza domiciliare Alzheimer e il servizio ADA è l'ennesimo atto di una politica che esclude e dimentica i diritti fondamentali dei cittadini. A parlare i consiglieri regionali, Angiolina Fusco-Perrela e Giuseppe Sabusco, i quali hanno presentato un'interrogazione urgente al presidente Paolo di Laura Frattura per conoscere quali sono stati i motivi che hanno portato alla cessazione del servizio. Sentiamo dai banchi della maggioranza parole e parole su battaglie di diritti e di civiltà, hanno commentato i due consiglieri regionali di opposizione. E invece, grazie alle sole parole non seguite dai fatti, ci troviamo di fronte ad un welfare che esclude e che dimentica proprio i diritti. Il progetto ADA non solo è fondamentale per le persone affette da tale patologia e per i loro familiari, ma permette anche un risparmio della spesa sanitaria. Ed ora la cronaca, un incidente stradale si è verificato sulla statale 17 all'altezza di Campochiaro, due le auto coinvolte e uno dei due veicoli ha preso anche fuoco dopo l'impatto sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi. Il 118 ha trasportato all'ospedale Cardarelli di Campobasso 5 persone, fortunatamente senza ferite gravi. E cambiamo argomento, torniamo a parlare dell'azienda tessile di Pettoranello di Molise. Si terrà il prossimo 12 gennaio l'incontro tra i sindacalisti e il commissario liquidatore dell'ITR per scongiurare l'ipotesi di un nuovo taglio all'organico dell'azienda. Vediamo. Si dovrà attendere la prossima settimana per avere qualche risposta in più in merito al concordato preventivo con cui la OTI di Antonio Rosati ha rilevato l'azienda tessile di Pettoranello di Molise. I carteggi sono stati richiesti dalla procura di Milano a seguito dell'inchiesta sulla maxitruffa che ha visto protagonista l'ex presidente del Varese Calcio, da ottobre rinchiuso nel carcere di San Vittore. Tra una settimana, infatti, precisamente il prossimo 12 gennaio è previsto l'incontro tra i sindacati e il commissario liquidatore dell'ITR. La riunione tra le parti coinvolte si sarebbe dovuta svolgere a metà dicembre, ma è slettata di qualche settimana per dar tempo ai sindacati di valutare la proposta di liquidazione dell'azienda di Pettoranello. Proposta che ha fatto discutere poiché prevede ulteriori tagli nell'organico. Per la precisione sarebbero 247 le unità che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. La sforbiciata andrebbe a toccare le diverse sedi di Pettoranello e Montaquila e Molise, di Valmontone nel Lazio e di Bagnolo San Vito nel Mantovano. Una proposta che non va giù alle maestranze, tantomeno ai sindacalisti, che sperano di ottenere dal prossimo incontro maggior chiarezza e merito alla possibilità di perfezionamento dell'accordo con la New Co. al fine di riassorbire almeno una parte dei dipendenti dell'azienda Tessile. Intanto l'HDC di Antonio Rosati è stata commissariata, in attesa che la vicenda sul suo proprietario si chiarisca. Una situazione bloccata su troppi fronti, il che potrebbe portare il giudice Vassallo a decidere di rivedere la sentenza di omologa del concordato, portando l'ITR al fallimento. Una strada percorribile sarebbe rappresentata dalla possibilità, da parte del Tribunale di Isernia, di prendere in considerazione nuove proposte giunte nei mesi scorsi da altre società interessate a rilevare l'azienda Tessile Molisana. I lavoratori sono in trepidante attesa, ma il loro futuro occupazionale appare a dir poco incerto. E ancora una notizia di cronaca, ha forzato un posto di blocco dei carabinieri non fermandosi all'alt intimato per tentare poi di disfarsi della droga, ma è stato arrestato. E quanto accaduto ad Agnone nella serata di ieri a finire in manette un 25enne di origini rumene, ma residente nel comune Alto Molisano e già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 12 grammi di eroina nascoste in un involucro. E a Termoli la Capitaneria di Porto, dopo il ritrovamento di un bidone sospetto di asfaltene, ha indetto un incontro con le principali autorità cittadine. Intanto il bidone sarà portato all'Arpa Molise, che provvederà ad accertare cosa contiene e ad avviare eventuali indagini. Vediamo. Preoccupata e non poco l'amministrazione comunale di Termoli, che dopo il ritrovamento di un bidone sospetto e dal presunto contenuto fortemente inquinante, ha voluto incontrare la Capitaneria di Porto per fare il punto della situazione. Non si tratta infatti che dell'ultimo rinvenimento in ordine temporale di fusti inquinanti sulla spiaggia di Termoli. A notare il barile sono stati alcuni passanti che ieri mattina hanno visto qualcosa di insolito sull'ultimo tratto del lungomare nord. Un contenitore che aveva impressa la scritta della Bacher Hogs, multinazionale con sede a Cepagatti, specializzata nel settore delle prospezioni geologiche ed i servizi delle aziende produttrici di acquedotti e gasdotti. Stando ai primi accertamenti fatti dalla Capitaneria, sembrerebbe che il bidone fosse vuoto al momento del ritrovamento ed è probabile che sia finito in mare a seguito delle forti ondate di maltempo dei giorni scorsi. Il contenitore ora sarà portato all'Arpa Molise, che provvederà ad accertare cosa contenesse ed avviare eventuali indagini. Sull'etichetta della Tanica era indicata, oltre che la data di produzione lo scorso 31 ottobre, anche il contenuto, ovvero solvente per asfaltene, componente molecolare del petrolio greggio che, qualora dovesse essere sversato in mare, provocherebbe la morte certa della fauna marina. Intanto il tavolo tecnico convocato in data odierna è servito per trovare una soluzione e la rimuzione in sicurezza del contenitore. Infatti, dopo aver contattato tutte le autorità competenti e aver coinvolto tutte le società interessate, si procederà con un sopralluogo per valutare i prossimi step operativi. La situazione è comunque per il momento sotto controllo, anche se l'allerta resta alta. Si svolta in mattinata presso la sala Mancini del comune di Campobasso una conferenza stampa indetta dal vice sindaco Bibiana Chierchia. L'assessore all'urbanistica si è detta soddisfatta delle iniziative legate al cartellone natalizio, dove al momento è stata rinviata a causa meteo l'iniziativa Pianta il riciclo creativo. Nell'occasione il vice sindaco ha fatto anche il punto sulle attività messe in campo in materia di urbanistica. Vediamo. Dal riciclo creativo alla differenziata, passando per l'attività dell'assessorato all'urbanistica, sono stati tanti i punti trattati in conferenza stampa dal vice sindaco e assessore Bibiana Chierchia. L'esponente di Palazzo San Giorgio nel corso dell'incontro ha illustrato parte delle attività svolte nell'anno appena concluso. Da segnalare la riapertura dell'assegnazione dei finanziamenti per il centro storico. 1.250.000 euro la somma nelle casse comunali, ha precisato il vice sindaco, che deve essere riassegnata ai cittadini aventi diritto in graduatoria. Oltre un centinaio le persone che attendono da anni il pagamento di fondi già stanziati. Indirittura d'arrivo anche il completamento e l'implementazione del sit sistema informativo territoriale che permetterà di accedere al catasto e alla toponomastica in via telematica. Ovviamente si velocizzerà in assoluto la possibilità di raggiungere le informazioni che servono ai tecnici. Sarà accessibile a chiunque, a chiunque andrà sul sito del comune nella parte dell'urbanistica, chiunque potrà sapere in quel foglio, in quella particella, che cosa insiste, che cosa prevede il nostro PRG, il nostro piano regolatore generale. L'utilità sarà ovviamente una velocità assoluta per raggiungere le informazioni e un'autonomia, cioè non ci sarà più bisogno di passare dai nostri tecnici nei nostri uffici. Presenti in conferenza stampa e responsabili dell'Associazione Culturale Malatesta, promotori dell'iniziativa Pianta e Riciclo Creativo, prevista per la giornata di domani ma rinviata a causa delle cattive condizioni climatiche, evento che sarà riproposto nella prima data utile. Pianta e Riciclo Creativo è un evento che avremmo dovuto realizzare in questi giorni natalizi. Purtroppo il tempo ci ha bloccato ma sicuramente appena sarà possibile lo riproporremo. L'obiettivo di questo evento è realizzare manufatti di arredo urbano a partire da materiali di riciclo e di riutilizzo. Abbiamo pensato di scegliere come materiale gli pneumatici, questo perché da studi si evince che in Europa si producono 2 milioni di tonnellate di pneumatici e quindi poterli riutilizzare sarebbe molto importante. Cosa realizzeremo in questo evento? Delle aiuole, quindi pianta, vuol dire appunto inseriremo delle piante, tra l'altro delle piante scelte con criteri, piante autoctone che quindi stanno bene nel nostro contesto, nel nostro territorio e realizzeremo anche degli spegnicic. Queste sono le idee di partenza. Sensibile al tema del riciclo, il consigliere Ramundo, delegato alla raccolta differenziata che ha ribadito l'impegno e il progetto che si intende realizzare sulla città di Campobasso con l'intenzione di puntare all'obiettivo zero rifiuti. E tornerà domani per la gioia dei più piccoli la Befana. Diverse le iniziative in regione, a Termoli torna la manifestazione Caccia alla Calza, l'appuntamento conclusivo delle iniziative promosse dai commercianti per ravevare il Natale nel Borgo Antico. Alle ore 17 le Befane accompagneranno i più piccoli alla ricerca delle calze lasciate nei vicoli del centro storico durante la notte. A Campobasso invece la Befana distribuirà dolci a tutti i bambini in centro a partire dalle 12.30. Ed ora apriamo la nostra pagina sportiva. Vediamo insieme nel dettaglio i risultati della 17esima giornata del campionato di Serie D, Girone F e la relativa classifica. Castelfidardo-San Benedettese 1 a 2, Chieti-Olimpia-Agnonese 3 a 1, Campobasso Termoli stata rinviata, Fermana-Amiternina 3 a 0, Maceratese-Giulianova 1 a 1, Matelica-Alma-Juventus-Fano 0 a 1, Recanatese-Iesina 0 a 0, San Nicolò-Civitanovese 1 a 1, Vispesaro-Celano 2 a 0. Vediamo la classifica aggiornata. In testa, Maceratese con 39 punti, segue Civitanovese e Alma-Juventus-Fano con 37, San Benedettese 33, Campobasso 29, Matelica 28, Chieti 26 punti, Iesina e San Nicolò a 25 punti, Giulianova 20 punti, Amiternina e Fermana a 19, Recanatese 18 punti, Castelfidardo 16, Vispesaro 12 punti, Termoli e Celano 11, Olimpia-Agnonese 10 punti. Inizia male il 2015 per l'Agnonese, infatti Granata escono sconfitti per 3 a 1 nell'ultima partita del girone di andata. Una doppietta dell'ex Esposito e un gol di Broso condannano gli altomolisani alla quarta sconfitta consecutiva e alla coda della classifica. Nella 17esima e ultima giornata di andata del campionato di Serie D, girone F, l'Agnonese è ospite del Chieti, Granata a caccia di punti utili per smuovere la classifica fin qui deficitaria. Con le immagini passiamo alla cronaca del match. Parte subito a forte il Chieti che approfitta di una colossale dormita della retroguardia altomolisana. Punizione battuta veloce, Esposito con un diagonale fa l'1-0 al quarto minuto. Il fantasista molisano segna ma non esulta per rispetto dei suoi ex compagni. La partita si addormenta e per vedere un'altra azione degna di nota bisogna arrivare al trentesimo. Chieti pericoloso ancora una volta con Esposito, bravo Biasella, ad opporsi sul diagonale del fantasista nero-verde. Al quarantunesimo si fa vedere per la prima volta l'Agnonese con una conclusione sbilenca di Santoro che non inquadra la porta da palla proveniente da calcio d'angolo. Due minuti dopo arriva il raddoppio della squadra di casa, Esposito sguscia in mezzo a due e serve con un filtrante Broso che con il destro piazza e batte per la seconda volta. Un'incolpevole Biasella. Il primo tempo termina qua. Nella ripresa riparte forte il Chieti che ci prova ancora con Broso in girata ma per il neo entrato vescio non ci sono problemi. L'Agnonese si fa vedere al sedicesimo con Cantoro. Su calcio di punizione il portiere di casa devia sopra la traversa. Al diciassettesimo i Granata accorciano le distanze grazie al solito ricamato che lascia esplodere un siluro dai 35 metri sul quale Placidi non può far nulla. 2-1. Sempre ricamato pericoloso dopo appena un minuto il centrocampista ha la palla del pareggio sulla testa ma il portiere nero-verde distinto si oppone. Il Chieti torna a farsi vedere con il solito Esposito che ci prova di testa ma la torsione del fantasista finisce a lato. Al ventinovesimo ancora Esposito sugli scudi inventa per Broso ma l'attaccante Calabrese spara su Vescio. I Granata tornano a farsi vedere dalle parti di Placidi con Saltarin però superlativo il portiere nero-verde che gli nega il gol. Al 39esimo Esposito fa tutto bene ma calcia di un soffio al lato. I Granata rispondono al 44esimo con Cantoro che ci prova con palla al giro sul palo lungo ma Placidi si oppone ancora splendidamente. In pieno recupero arriva la terza rete con Esposito che passa in mezzo a tre e piazza il destro vincente a tu per tu con Vescio. La partita termina qua, quarta sconfitta consecutiva per i Granata che iniziano male il 2015 e che ora sono all'ultimo posto della classifica con la panchina di Donatelli che è sempre più in bilico. E vediamo ora nel dettaglio gli incontri previsti per domani della prima giornata di ritorno del campionato di eccellenza. Sesto Campano Gambatesa, Treppini Sporting Matese e Casa Nuovo Monterotaro, Sant'Eliana Cliternina, Roseto Isernia, Riccia, Venafro, Montaquila, Vasto Girardi, Calcio Dauna, Rocca Ravindola, Comprensorio Vairano, Fornelli. E ancora un cambio di panchina in eccellenza, questa volta un po' a sorpresa. Infatti si è dimesso il tecnico della capolista del campionato di eccellenza, Molisana. Nelle ultime ore Teodoro Torre ha lasciato la panchina della gioventù Calcio Dauna. Una tegola pesantissima catapultata sulla testa della squadra del presidente Gianfranco Laureola proprio alla vigilia della ripresa del torneo dopo la pausa festiva e prima della delicata gara interna con il Rocca Ravindola, quarta forza del campionato. Infine vediamo nel dettaglio gli incontri in programma per domani della prima giornata di ritorno del campionato di promozione. Campo di Pietra, Real San Martino, Macchia, Frentania, Pietra, Montecorvino, Alife, Cercio e Maggiore, Toro, Real Prata, Montenero, Ripali, Mosani, Castelmauro, Spinete, Vinchiaturo, Petacciato, Torre Magliano. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso. Previsioni del tempo per martedì 6 gennaio 2015. Prosegue l'afflusso di fresche correnti settentrionali che determina ancora nuvolamenti a ridosso della dorsale con la possibilità nella prima parte del giorno di fenomeni a carattere nevoso. Tendenza tuttavia a miglioramento dalla serata. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Venti moderati tesi settentrionali, mare adriatico molto mosso. Vediamo nel dettaglio le temperature. Campobasso minima 0, massima 2 gradi. Isernia minima meno 3, massima 6 gradi. Termoli minima 6, massima 10 gradi. Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso. Il meteo è stato offerto da